Ciao a tutti, Martella sembra essere in direzione Palermo, il Palermo è interessato ad acquistare il terzino di proprietà delle ferie Bruno Martella per cui staremo a vedere come si concluderà questa trattativa diciamo così di calciomercato comunque secondo le ultime discrezioni il Palermo vorrebbe acquistare Martella appunto e potrebbe essere anche una trattativa sensata nel senso che la Ternana andrebbe così a ridurre vendendo Martella il Montengaggi e andrebbe ad inserire al suo posto un giovane di buona prospettiva visto anche poi il rendimento dell'ultimissima stagione di Martella che caratterizzato anche dagli infortuni non è stato proprio ottimale per cui staremo a vedere quello che sarà e come si evolverà e concluderà questa trattativa per il resto il Lecco sembra avere tra virgolette problemi a non iscriversi in Serie B nonostante la promozione era ottenuta da poco per cui staremo a vedere se cambierà la Serie B in caso ci sono sia il Brescia che il Perugia che sperano in un ripescaggio per il resto a breve tra poche ore dovrebbe esserci l'ufficialità del nuovo allenatore che salto clamorose sorprese sarà Andrea Zoli però sono tre sostanzialmente i nomi in lista c'è anche Deventurato con D'Angelo per cui staremo a vedere chi guiderà le fere per la stagione 2023-2024 certo ecco oramai non sarà Cristiano Lucarelli per cui staremo a vedere chi prenderà il suo posto per il resto il Palermo è su Martella